Dimenticavo un'altra cosa che ho fatto, di sistemare un po' questo angolo dove c'erano tutti i rovi e quindi le more, mettendo sotto dei legni e cercando di legarlo un po' alla rete, così sta su meglio e poi se riesce a fare le more anche quest'anno sono più comodi da prendere. Allora, questi sono i vasetti che invece ho seminato in casa lo scorso weekend, quindi tra il 16 e il 17 di febbraio e ho seminato in casa soprattutto zucche, ci sono pomodori e zucchine e già nel giro di una settimana ho visto che qualcosa già sta cominciando a spuntare, le prime zucchine, i primi pomodori e se va tutto bene nel giro di 4 settimane più o meno questi comincerò a metterli già nell'orto anche perché appunto i vasetti sono molto piccoli e non possono stare qua lento troppo tempo, però vediamo anche un po' come va il tempo perché ovviamente se continua a far troppo freddo mi conviene tenerli ancora in casa, a massimo li cambio il vaso. Oggi è il 20 febbraio e in questi giorni fa caldo come l'anno scorso, c'è un bel sole e quindi sono andato a recuperare i bolognini, questi blocchi di cemento per costruire i race bed che volevo fare quest'anno. Ne farò un altro qui dove c'è già la canna dell'acqua, così sfrutto il fatto che si può bagnare facilmente anche qui e poi chiuderò quelli che sono già sotto la serra, mi basta mettere 4 mattoni e praticamente se ne creano altri. Ho già recuperato una rete metallica da mettere sotto e adesso vediamo come va perché questi giorni oggi è mercoledì, domani e venerdì sicuramente sarò incasinato e non penso di riuscire a scendere a lavorare, quindi magari farò qualcosa nel weekend, però visto che l'anno scorso poi ai primi di marzo aveva nevicato di nuovo, quindi secondo me sono giorni di caldo prima che torna ancora il freddo, però insomma comunque i materiali li ho già recuperati e appena riesco mi metto al lavoro, così almeno per quest'anno comunque ne faccio ovviamente molti meno di race bed perché comunque già l'anno scorso erano sufficienti e poi basta, poi devo solamente seminare. Oggi è il 21 di febbraio e ho fatto un po' di pausa oggi pomeriggio, dopo che ho fatto tutta la mattina a lavorare al computer e ho cominciato a sistemare queste aggiunte di race bed, quindi appunto ho semplicemente aggiunto questi mattoni avevo già lasciato lo spazio l'anno scorso e ho riempito di terra. Ci ho messo circa un'oretta e mezza per fare tutto questo e ho pianato un po' sotto e ho messo anche una rete, una rete metallica per cercare di non fare entrare i topi da sotto non so se funzioni però avevo già le reti in giro, valeva la pena tentare. E quindi niente, adesso salgo perché non vorrei stancarmi troppo non sono più abituato a lavorare in giardino e i prossimi giorni quando avrò tempo farò anche questo nello stesso modo quindi aggiungerò quattro mattoni e metterò la rete sotto e riempirò tutto di terra. Oggi è il 24 di febbraio e già settimana scorsa, lo scorso weekend, che era il 16-17 di febbraio ho già iniziato a seminare le prime cose fuori. Quindi sotto le mini serre che avevo fatto l'anno scorso con le cassette della frutta e i sacchetti della pattumina trasparenti e per adesso ho messo fuori soprattutto piselli nei vasetti. Ho visto che qualcuno sta già cominciando a spuntare così poi quando sono venuti su e quindi non c'è più sotto il seme del pisello che è più facile che se lo mangiano i topi e soprattutto visto che sono sotto alla plastica c'è un pochino più di caldo dovrebbero crescere un ottimo prima. Insomma quando ci sono le piantine poi li metterò nell'orto. E oggi appunto ho fatto altri vasetti con la terra e penso di piantare altri piselli, qualche fagiolo e qualcos'altro. Adesso vedo le cose più ideali che possono già iniziare a essere seminate fuori nelle prossime settimane. Sempre in questi giorni, quindi sempre 23-24 di febbraio ho spruzzato il solito acqua e bicarbonato sui peschi per cercare di tenere lontano quella muffa, quella bolla del pesco. Su questo, quando l'avevo messo quest'estate, vi ha funzionato. L'altro che ce l'ha è un pochino più conciato quindi non so se riesce a resistere a non venire sulla bolla però insomma adesso intanto che sta ancora iniziando a mettere su i primi boccioli vediamo se riesco a fermarlo. Mi auguro almeno questo che faccia qualche pesca visto che è quello che avevo piantato l'anno scorso. Primo marzo e ieri sono riuscito finalmente a recuperare una rete metallica qua vicino l'ho trovata a circa 2,50 euro al metro quadro più o meno che non è pochissimo ma non è neanche tantissimo l'ho vista anche a tipo 7-8 euro a metro quadro però insomma volevo tentare quindi adesso questo qua è l'ultimo race bed che vorrei fare per quest'anno a meno di imprevisti ma visto che sono già stanchissimo poco tempo mi auguro di fare solo questo e insomma volevo testare appunto come ho fatto anche dalle altre parti di mettere la rete sotto per vedere se per qualche motivo riesce a fermare gli eventuali topi che cercano di salire quindi niente adesso penso che piano piano perché non ho tante energie e un'oretta, un paio d'oretta al giorno oggi appunto ho sistemato un po' il terreno ho messo giù i primi mattoni adesso penso che cercherò di metterli il più dritto possibili e poi domani continuo mettendo dentro terra e altre cose insomma mi auguro che nel giro di una settimana, due di finirlo ma magari anche questo weekend se ho abbastanza ispirazione e forze altra cosa di cui mi vorrei ricordare per l'anno prossimo che a inizio marzo i topi cominciano a riavvicinarsi all'orto ci sono un bel po' di buchi qua in teoria mercoledì vengono a controllare però appunto sicuramente sarà da mettere dell'altro veleno e poi appunto oggi erano un bel po' di settimane che non pioveva quindi era tutto secco ma fortunatamente oggi è piuto un bel po' non proprio temporale però comunque è rinfrescato e anche le temperature sono abbassate di nuovo non so esattamente di quanti gradi ma fa molto molto più freddo rispetto agli scorsi giorni quindi insomma va bene che avevo fatto le minibili inserre sul balcone oggi è il 5 marzo e ho finito di sistemare il rice bed nuovo finalmente quindi ho riempito tutto con il compost un po' dal bosco e un po' della compostiera ci ho messo sulle foglie per proteggere la terra e nei prossimi giorni riempio anche i copertoni che avevo preso l'anno scorso e poi come zone di semina di coltivazione dovrei essere a posto per quest'anno meno di imprevisti oggi è il 6 marzo e stamattina sono andato a fare la spesa e già che c'ero ho recuperato anche una patata dolce visto che quest'anno volevo provare a metterle nell'orto in teoria si mettono per qualche settimana in un vaso con un po' d'acqua in modo che germogliano e poi i germogli si tolgono e si mettono appunto a terra e fanno altre piante è un po' come se diventasse producesse all'infinito germogli però insomma è il primo punto è il primo tentativo quindi vediamo un po' come va intanto già che ci sono faccio un aggiornamento sui vari semico in casa che stanno già germogliando appunto queste sono zucchine poi ci sono anche zucche alcuni pomodori e anche qua pomodori quindi come l'anno scorso bene cioè in casa germogliano molto prima quelli che sono fuori nella serra nella piccola serra fatta con le cassette e i sacchetti della pattumiera sono un pochino germogliati sono dentro dei piselli però sono molto più indietro rispetto a questi ovviamente una cosa che non faccio vedere spesso in questi video perché di solito appunto registro direttamente fuori quando sono nell'orto nel giardino è invece come faccio la organizzazione di tutti i lavori diciamo la pianificazione di tutto l'anno di tutti i mesi questo è un esempio del mese di marzo quindi io da più o meno dall'anno scorso credo abbia iniziato a fare le cose in modo così serio tengo traccia di tante cose in questo file su google drive ad esempio mi metto il meteo dei vari anni per avere un po' un'idea di cosa è successo l'anno prima e quindi di cosa potrei aspettarmi per quest'anno e poi anche tutti i vari lavori che devo fare durante questo mese qui ad esempio ci sono le semine suddivise da le semine da fare in orto quelle da fare nella miniserra e quelle da fare in casa ed eventuali cose che servono per costruire le parti dell'orto in questo modo praticamente velocizzo i lavori perché più o meno so già cosa devo fare non devo star lì ogni anno a pensare quindi un po' tra questi file e i video che faccio appunto per tornare le traccia mi aiuta davvero tantissimo è molto 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 utile per gestire un orto anche se non è troppo grande questo è l'angolo delle bacche ed era barbari sono contento che quanto pare sta tornando su uno dei rabarbari quindi forse non sono tutti morti però per adesso vedo solo questo quindi vediamo se ne tornano anche altri invece tipo vedo i lamponi stanno ricrescendo un po' dappertutto sembra quasi che abbiano invaso tutto questo mini race bed e vabbè bene bisogna capire esattamente se poi vengono su appunto anche i rabarbari e magari non c'è abbastanza spazio però sono soddisfatto vediamo cosa ne esce oggi è il 9 marzo e visto che c'è un po' di sole mi sono messo fuori ho cominciato a sistemare un po' di semine nell'orto quindi ho tolto un po' di erbacce che erano cresciute in questi race bed e ho cominciato a piantare un po' di insalate e di spinaci ho rimesso sopra le foglie secche e vediamo se piano piano crescono gli ho messi ho messo anche un po' di di carote nei race bed dove sotto avevo messo la rete in modo che siano più protetti insomma le prime semine quest'anno i semi quelli piccolini li metto anche già fuori quelli più grandi come dicevo li faccio crescere in vaso e li metto fuori solamente dopo per paura che sennò si mangiano tutti i topi infatti scavando in giro ho già visto che ci sono un po' non so se sono buchi nuovi cose vecchie però ho visto in giro un po' di buchi quindi devo stare attento oggi è l'11 marzo e stavo dando un'occhiata come stavano i vari semi che avevo messo sotto le serre in balcone e i primissimi che avevo che avevo seminato quindi i piselli praticamente alcuni sono già venuti su però aspetterei ancora un pochino prima di di metterli a terra alcuni un po' meno adesso magari li cambio la posizione cioè quelli che prima stavano sotto li metto sopra giro un po' così riescono a prendere abbastanza sole tutti visto che non sono troppo secchi quindi non so se bagnarli vediamo come va oggi è lunedì e nel weekend quindi ieri l'altro ieri che erano il 9 il 10 di marzo ho fatto inzitutto un po' di un po' di lavori qua sul balcone ho portato giù il tavolino che usavo per le semine per i vasi ho messo invece questo di legno molto più resistente perché mi servirà poi per fare tutti i lavori con il legno e altre cose visto che prima dovevo farlo magari per terra in garage e roba del genere invece insomma ho fatto un angolo di lavoro per il legno con tutti gli attrezzi che sono rimasti ancora da mio nonno e dallo zio della mia compagna comunque insomma sono soddisfatto nel frattempo ho anche fatto quella cosa di portare la la gocciolante su un balcone partendo giù da dove c'è il rubinetto adesso non l'ho ancora sistemata bene nei prossimi giorni vedo vedo bene come metterla in che ordine però così in teoria sotto ogni buco metto un vaso si bagna e anche per il balcone risparmiamo tempo quindi molto più molto più veloce sotto il balcone c'è ancora un gran casino l'anno scorso avevo iniziato a sistemare soprattutto la parte più in fondo dove c'era la legna però qua sotto c'è ancora c'è ancora il caos e nelle prossime settimane vorrei riuscire a pulire un po' di più mettere un po' di ordine anche soprattutto perché cominciano a esserci in giro le formiche quindi vorrei evitare di creare spazio dove si possono nascondere per poi salire anche in casa però insomma ci vorrà un bel po' di tempo sempre nel weekend quindi 8 e 10 marzo ho anche cominciato a seminare un bel po' di cose qua nell'orto soprattutto insalate e carote qualche carota dove c'erano i racebed nuovi quindi la terra è abbastanza friabile dovrebbero crescere bene e poi appunto nei prossimi giorni seguirò il calendario delle semine che mi sono fatto per mettere giù ancora un po' di semi appunto solamente quelli piccoli per evitare che arrivino i topi già che c'ero nel weekend ho anche potato un po' sia i lamponi che le more che il mirtillo cercando di dare fare un pochino più di spazio magari nei prossimi giorni lo poto ancora un po' soprattutto il mirtillo perché è davvero gigante come pianta e secondo me soffre un po' bisogna dargli un pochino più di aria e di spazio una cosa che mi vorrei ricordare di questo marzo 2019 è che anche se non ha nevicato come l'anno scorso però in questi giorni oggi appunto è l'11 fa davvero tanto freddo appena va via il sole c'è su un vento che è gelido e quindi ovviamente questo contribuisce anche alle piante di notte congela tutto magari congela no però fa molto freddo quindi non crescono oggi è il 15 marzo e oggi ho fatto tipo 5 ore a sistemare sia il balcone sopra che sotto sempre un po' per sistemare perché appunto c'era casino non riuscivo neanche a trovare i vasi e altre cose un po' perché è il solito problema delle formiche quindi se è più pulito c'è meno possibilità che entrino in casa e sono abbastanza soddisfatto non ho ancora finito c'è ancora un po' di roba da sistemare anche qua le cassette non so ancora stenerle perché appunto c'è un po' troppo troppe cose assieme e se arrivano le formiche non le vedo quindi troverò un altro sistema però insomma qua tante cose le ho portate finalmente giù anche sotto appunto le ho fatte vedere qualche giorno fa ovviamente adesso è buio non si vede però insomma ho messo un pochino più di ordine ho messo le cose sopra delle cassette di plastica così sotto rimane spazio ed è più difficile che le formiche vadano a fare il nido di sotto e c'è un po' di ordine devo appunto c'è ancora un po' di cose che devo capire bene dove mettere e però adesso appunto è tardi ormai è venuto buio non riesco a fare tutto però perlomeno adesso ho quello che che volevo fare ovvero il tavolino che prima era sopra adesso lo userò per sistemare i semi e le altre cose diciamo quelle relative proprio all'orto così più semplice e qua vicino e anche usando la terra così non è un problema perché non sporco il balcone ho fatto anche una cosa super utile questo si vede poco però in pratica ho fatto in questi due cestini in uno ci sono dentro tutti i vasi che posso usare di plastica e nell'altro tutti i sottovasi così è molto più semplice trovarli invece prima dovevo andare a scavare in mezzo alle cose anche qua dietro ho praticamente messo tutti i tipi di vasi uguali insomma abbastanza soddisfatto molto stanco anche qua ho messo veleno negli angoli perché venivano su sempre a quest'angolo qua fino in camera mi auguro che servia qualcosa e vedremo che volevo ricordarmi quindi 15 marzo metà marzo sono comparse un bel po' di nuovi buchi di topi e in teoria settimana prossima viene qua quello che ci do una mano e vediamo se riesce a risolvere mettere un po' di veleno li ho trovati sia quella parte dell'orto sia uno dove c'è il mega race bed dei topi nambur quindi hanno scavato anche qua anche l'anno scorso qua l'avevano scavato un sacco infatti molti topi nambur me li avevano mangiati quindi sono anche un po' in dubbio se rimetterli qua i topi nambur oppure no non lo so ci devo ancora pensare un po' bene devo dire che tra tutti i piselli che ho che avevo seminato non ne sono spuntati tantissimi sarà un po' anche per quel problema lì che visto che tanti sono bruciati perché purtroppo con diciamo non sono stato attento al fatto che c'era troppo caldo troppo sole e nella serra effettivamente sono arrivate a delle temperature altissime e tanti appunto si sono bruciati mentre stavano nascendo e quindi niente sono morti quindi oggi è il 19 di marzo e metterò a seminarne molti altri perché appunto un po' perché i semi sono già dell'anno scorso e chissà di quando erano quando li hanno scatolati quindi vorrei farli fuori tutti e piantare più piantine possibili perché comunque come ho visto l'anno scorso non è detto che tutte poi sopravvivono qualcune verranno mangiate e moriranno quindi meglio seminare il più possibile molto molto di più di quanto io pensi di raccogliere perché tanto molte di queste non ce la faranno oggi è il 30 di marzo e stamattina mi sono svegliato abbastanza presto per cominciare a fare un po' di sistemazioni nell'orto tra cui mettere a terra tutti i topi in ambur questi sono quelli che avevo messo nei secchi a novembre più o meno se non ricordo male ottobre novembre sono cominciando a radicare quindi insomma sono tornati attivi e sono rimasti in ottime condizioni per tutti questi mesi quindi appunto come sistema di conservazione metterli nei secchi ottimo e adesso niente li rimetto a terra dentro dove avevo praticamente coltivati l'anno scorso e mi auguro che i topi non se li mangiano tutti comunque sono talmente tanti che ne metterò giù li metto molto vicini anche se bisogna metterli un pochino più distanziati e poi semplicemente vedo cosa rimane una cosa che ho notato nel race bed che l'anno scorso avevo usato per le patate che io pensavo di aver raccolto più o meno tutte in realtà ne stanno crescendo un po' quindi alcune patate erano rimaste rimaste sotto sotto terra e non se ne sono mangiato i topi e quindi adesso stanno ricrescendo quindi anche se quest'anno qua non volevo non volevo metterle perché preferivo metterle dove c'erano le reti comunque meglio se crescono da sole poi vediamo cosa verrà su un'altra cosa di cui devo ricordarmi che verso fine marzo inizio aprile questa parte del balcone è troppo calda c'è davvero tanto sole quindi già tutti i vasetti seccano velocissimi e alcune piantine si bruciano praticamente troppo caldo quindi sarebbe il caso di spostarli o metterli direttamente in orto quelli che sono già spuntati di spostarli